Francia, Palestina, Brasile, Marocco, Senegal, Israele. Sono questi i primi tre scontri diretti in programma oggi al Palabia rispettivamente alle 12, alle 14 e alle 20 e 30. Lo ha stabilito il sorteggio che ieri pomeriggio ha dato il volto definitivo a questa serie di semifinali che porteranno solo tre squadre alla finale in programma poi sabato. La diciottesima edizione quindi il Cuscus è diventato un po' maggiorenne quindi iniziamo anche a camminare da soli e quest'anno abbiamo un palinzesto importantissimo, un evento che dura 10 giorni e un evento soprattutto chi ha come protagonista il pubblico. Da sempre ho seguito questo evento ed è un piacere intanto registrare questa presenza di pubblico e soprattutto queste delegazioni stranieri che ci ospitano questa sera alla loro presenza a San Vitolo Capo. L'Italia farà il suo esordio domani con tra le sue fila il giovane chef milanese Stefano De Gregorio che vincendo pochi giorni fa la gara nazionale di Cuscus ha conquistato un posto in squadra. Tutta vacanza dal momento in cui mi sveglio e finché si va a dormire che sono le due o tre di mattina poi i cooking show cominciano alle 11 alle 10 e non mi siedo mai. Cioè loro ci danno i buoni pasto per andare a me che non usi stai lì mangi il Cuscus la mattina e la sera gente meravigliosa cuochi tutti di livello ma tutti ci vuol essere una cosa che ti piace una cosa no ma tutto di altissimo livello. Vediamo, vediamo che succede. Intanto ieri il Cuscus Fest è stato bagnato da una pioggia tanto breve quanto violenta che però non ha scoraggiato le migliaia di persone che in piazza santuario stavano seguendo il concerto che ritualmente chiude le giornate della manifestazione. Beh sul palco c'era Vinicio Capossela. E questa sera alle 23 a chiudere la prima giornata di gare internazionali l'attesissimo concerto di Marrakesh. Se questa è una miseria non ci tuffo con dignità dare.